Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare su strade e autostrade della Toscana. Possibili disagi in A1 per presenza di personale su strada tra Firenze Sud e in Cisareggello in direzione di Roma. Possibili disagi inoltre per veicoli fermi in avaria in A1 tra Calenzale 1 variante verso nord e in A11 tra Montecatini Terme e Pistoia in direzione Firenze. Ricordiamo che è in vigore sulle strade di gran parte della Toscana l'obbligo dotazioni invernali, tutte le tratte interessate sui nostri canali social. Per la canteristica in FIPILI per verifica periodica dell'impianto idrovoro segnaliamo la chiusura della corsia di marcia in direzione mare all'altezza del chilometro 68 e 100 per mezzo chilometro nel ramo di Livorno. Il provvedimento è in vigore fino al 22 di dicembre. Muoversi in Toscana Info Servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Meroportane, Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!